Opera prima di Elisabetta Rocchetti, 18 anni, Il mondo ai miei piedi, è un dramma sentimentale con l'intento di gettare uno sguardo sul mondo dei diciottenni senza alzarsi tre metri sopra il cielo, ma neppure purtroppo restando con i piedi ben piantati al suo. Con qualche imprecisione di sceneggiatura e di montaggio di troppo, alti e bassi recitativi dei vari personaggi e un contesto nel quale si aggira il giovane Ludovico veramente troppo tragicomito e macchiettistica, si sviluppa una pellicola lenta, senza anima e soprattutto poco originale.